Ciao a tutti e bellissimi e benvenuti nel Bad Wars! Madò! Sì, dopo tanto tempo le avete volute ragazzi, però abbiamo pensato di implementare una challenge. Non so perché abbiamo pensato di farla, ma abbiamo detto, dai rendiamo la cosa un po' più interessante. Per cui in questa puntata, in questa partita di Bad Wars, semprimesso che non perdiamo nei primi 30 secondi, ecco, Larry utilizzerà il mouse, lo fai vedere alla gente come utilizzi un mouse, dai bravo, fallo vedere, mamma mia sei troppo forte, bravissima, bravissima, esatto, e io utilizzerò la tastiera, quindi io utilizzo la tastiera per muovermi, sì ok, è bruttissima. Oddio ma sono io? Ah sì! È vero ma è la tua skin! Ah ma perché è il tuo profilo, sì ok. Allora, dobbiamo iniziare, faremo il solo direi, perché se no... No, gioca in tre così gli altri almeno fanno qualcosa. Sì ma poi penseranno che siamo impediti gli altri della sua. Appunto, è la vera storia della nostra vita. Dici? Sì. Va bene. Dai raga, facciamo in tre così almeno quei due giocano assieme, perché se non facciamo in davo... Eccolo il 3 vs 3, è il meno giocato il 3 vs 3, va bene dai. Oh, fino a qua ci siamo. Ok, allora, stiamo per entrare Larry, stai pronta. Sicuramente gli altri due ti fregheranno subito i lingotti di ferro, Doro, però dobbiamo coordinarci, nel senso tu magari mi dici da che parte andare, ok? Perché tu sei la testa, insomma. Io sono il corpo e devo muovermi in base a cosa mi dici te. Certo. 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 Poi succede tutte altre cose. Ok, dove siamo? Ok, non muoverti troppo. No, scusa. Ok, vai, 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 vai. E dove vado? Guarda, sto prendendo i lingotti, ok? Ok, ok. Cosa faccio poi? Eh, prendi la bull. Ah, ok, vai, e prendi la te, non io? Eh sì, in effetti. Ok. Ok, presa, lascia questo, andiamo a... Andiamo a letto, andiamo a letto, ok, metti, metti giusto... No, vabbè, raga. Oddio, salta, 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 dai, 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 su, 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 metti, 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 bravissima, perfetto. Andiamo a prendere altri lingotti, andiamo a prendere altri lingotti, ok, perfetto. Prendi altri bull. Altre bull, ok, magari, no, non abbiamo abbastanza lingotti, però niente. Ok. Ma cosa fai? Forse vuole fare qualcosa di più figo. Ma al massimo scrivi, no? Vabbè, te vai avanti. Ah, vogliono farlo in letto, va bene, va bene. Allora, diamo un'occhietta a cosa stanno facendo gli altri, tipo... Andiamo, andiamo lì, centralmente. Allora, shiftati. Sì, lo sto facendo, ok, vai. Oh mio Dio, la sto facendo malissimo. Sì, ma magari non muoverti in questo modo così terribile. Vado ad andare a te indietro. Ma non sto andando indietro. Ti giuro. Ok, dai, dai, ok, dai, su. E adesso vado indietro perché ha senso, no? Sì, vabbè, ma stai... Ma ti giuro che... Ma cosa stai facendo? Lari, non ci basta la lana? Ok. Vai, ok, no, torni... No, 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 vai, vai, vai. Corri, corri, corri. Corri, 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 non corre. Ah, ma perché tu c'hai sull'F la corsa. Che pizza. Eh, vabbè, raga, io la uso così, no? Allora, no, aspetta, no, aspetta, time drop, ok, perfetto, andiamo. Corri, corri, corri. Corro, 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 corro. In realtà saltiamo, ok. Shiftati, shiftati, oh mio Dio, sta arrivando il blu. Sì, 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 stai attento. No, ma cosa stavo facendo? Eh, ma stavo pensando di andare avanti, no? Sì, ma fammi mettere, stavo. Vai, Lari! E fammela a me, vai più avanti. Eh, ma guarda il tizio che magari ci sta aspettando, non è caduto, niente, vai, vai. Lari, blu. Oh, salta, salta, salta. Ah, ok, 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 vai, 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 vai. Ok, andiamo, 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 vai. Sì, te, te, tieni premuto sempre. Io lo sto premendo a vita, guarda, è la mia speranza, ok, ok, ci siamo. No, no, no! Perché? Perché hai mosso l'immagine lì? Questo si è mosso. Va bene, va bene, tutto ok, non abbiamo perso niente, avevamo due di lana, due blocchi di lana, va bene, va bene così, va bene così. Dove è il nostro team? Ok, ma perché ti muovi la visuale? Non muoverla, guardare da... Perché voglio vedere cosa sta facendo? Sì, ma non guardare a destra mentre io sto correndo su un blocco solo di chi. Ok, sto andando, sto andando. Uh, Smeraldi, c'è gente. Ok, andiamo, andiamo ad ammazzarli. Andiamo ad ammazzarli. Eh, sono due. No. Ok, dai, salta, 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 salta. Sto saltando, Lari, dai. Vai, vai. Vai, Lari. Eh, sei morta, complimenti. Fai schifo. Ma non lo beccavo. Perché ti muovevi adesso? Ma devo muovermi perché sennò non mi colpisce. Allora, aspetta, farmiamoci un attimo la situa. Vedi cosa puoi prendere? Magari prenderti la spada in una pietra. Non queste. Scusa. Questa, perfetto. Ok, almeno questa ce l'abbiamo. Vuoi prendere altri blocchi di lana? No, qua non ti permette niente, siamo poveri. Vai a prendere un altro blocco di lana. Ma perché? Perché non si sa mai. Vai, ok, perfetto. Oh, madame, ma cosa stanno facendo? Ma cosa hanno fatto questi due? La fortezza, mentre noi ci siamo... Ma questi qua sono in due, raga. Eh, mi sa di sì. Anche noi siamo in due, siamo in quattro. Sì, ok, ma puoi girarla perché sennò rischio di cadere qua dentro. Ok, ok, allora, guarda per terra. Raga, siamo... È la prima Bad Wars a quattro. Vabbè, dai, vai a Mazzaro. Sto andando, sto andando. Su, su. Vai, vai su, vai su, su. Eh, ciao. Dai, dai, che c'è la spada in legno. Pigialo, pigialo, pigialo. Buttalo giù. No, 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 no. No, 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 no. Su, 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 su. Vai, 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 vai. Zero. Ma muori. Morto, morto, morto. No, ho la spada in ferro, si è morti, si è morti. Attacca, attacca, tattattattattà. Grande. Ma che gioco di squadra. Ma che gioco, guarda quanto tempo manca per gli smeraldi. Raga, sto sudando. Arriva un altro blu da dietro. Stai attenta. C'ha il puzzetto dalla testa. Sì, sì, sì. Quattro secondi. Prendiamo questa roba e ce ne andiamo. Subito. Uno smeraldo, non faremo il pocket. Ok, uno smeraldo. Vai, 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 vai. Ok, quello non so dove sta andando, però... Raga. Ce lo stiam facendo, ce lo stiam facendo. Ci stiamo coordinando tra... Nah, ti dai. Ok, mettela in underchest. Ok, perfetto, prendiamo altra roba e vediamo se facciamo per me. Oh, puoi prenderti... Ah! Oh, io, io, io! Muori! Muori! Eh, eh, eh. Ma sì, ma io ti odio, Vlad. Ma io ti odio. Perché? Perché ti muovevi così e io mi muovevo così. Eh? E non ci muovevamo bene noi. Eh, vabbè. Allora, no, guarda, controlla che mi sa che c'è qua, lo scemo. No, no, no. Eccolo lì. Eh, vedi? Andiamo ad aiutarlo? Eh, sì, per forza. Andiamo ad aiutare il nostro compare. Ah, l'ha buttato giù lì. Andiamo a prendere i diamanti, andiamo a prendere i diamanti. Vai a prendere i diamanti. E si, ma non c'è più la wool, man. Ah, cacchio, è vero. No, vabbè, sì, volevo anche qualcosa di più interessante di una spada di legno, sai, come prendi almeno quella di pietra, perché non c'è mai. Sì, sì, calmati, calmati. Ma calma il corpo, io sono il cervello. Allora, cerchiamo di prendere sti smeraldi, raga, così facciamo l'obsidian. Tantantantà. Non c'è niente. Ammazzo. Io voglio ammazzare. Eh, vai, 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 vai. No, vabbè, raga, è impossibile. Non si muove, sto Vlad. Bannate Vlad. Ma questi perché stanno facendo sta roba qua e non lo capiscono? Ma io non ho capito. Ah, oh, che spavento. Guarda un attimo verso sinistra che sta arrivando. Ok, sta arrivando il tizio. Ok, sta arrivando. Come faccio a dire all'allarme agli altri? Allarme! Allarme! Poi sembro io scema perché c'ho il... Sì, ma dai, ma Lari una manina, non ci arrivi. Eh, ma non ci arrivo! Oh, 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 boom! Ciao, vola, vola. Potevamo andare in base adesso. Voi dai diamanti. Ah, sì, dai diamanti. Però poi no. C'ho la Vull, c'ho la Vull. Ok, 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 vai, gira, gira. Ok, la sua base è in arenaria, quindi non un piccone. Ci serve il piccone. Perfetto. Uh, aspetta, aspetta. Ok, ok. Ah, sta arrivando, sta arrivando. No, no, no. No, corri, corri, corri. Eh, ma Lari non abbiamo la Vull, non abbiamo la Vull. No, no, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Corri, corri con la F. Sto correndo, sto correndo, sto correndo, sto correndo. Vai, 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 vai. Salta, salta, salta. No, aspetta, vai già un miglioramento con notti di diamanti che senso ha. No, 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 no. Prendile. Lasciali qua. Ok, prendo un attimo d'aria, poi possiamo upgradeare tutto. Ok, ok, allora prendi la roba. Ok, ok. Perfetto, vai, allora fai. Allora facciamo un upgrade, no, questo l'ho già fatto. Oh, madonna, raga. Cosa facciamo? Tutto l'abbiamo da fare. Vabbè, facciamo questo. Fai questo e poi vedi con quattro forze. No, non puoi. No, ci serverebbe. No, io aspetterei per fare la propria. Ma dovevo che spavano? Io metto i blocchi. Signore, si tolga. Ma ci sta... Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Girati, girati. Ok, allora, vai, 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 vai. Andiamo da quello. Sì, esatto, andiamo, andiamo. Ok, pian, pianino. Altri otto. Ragazzi, siamo ricchi. Ok, prendi quelli della chest. Ok, quattro, sono dodici. Perfetto, vediamo cosa può migliorare. Allora, la matura. E poi... La spada... Un corno. Vabbè, ok, mettiamo nella chest. Va bene, va bene. E torniamo a prendere. Ma le altre squadre... Ah, il blu sono andati, siamo rimasti noi i verdi. Raga, ma noi non stiamo facendo niente. Raga, noi non stiamo facendo niente perché ci stiamo coordinando ad andare. È impossibile giocare normalmente. Vabbè, dopo questa, dopo che facciamo l'upgrade all'armato... Ma wow, ma qui piovono, piovono diamanti. Piovono, veramente. Allora, facciamo così. Ora, andiamo in base. Oh mio Dio, scusate. Mi stavo aggiungendo... Mi stavo... Lari! Migliora quello, 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 quello. No? What? Trap trigger ed attenzione, abbiamo una trap qui. Eccolo! Uh, Henry Gamer. Cosa volevi fare, eh? Che siamo in due. Eh, 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 eh. Siamo in due, quindi il doppio della potenza. Esatto. Eh, ma se sto qua salta... Vabbè, che c'è la spada di legno, in effetti, cosa vuoi che abbia sto qua? Dai. Dai, girati, allora, andiamo. Ciao, ticcio. Girati. Eh. Raga, scusate se stiamo giocando, tipo, in modo veramente schifoso. Eh, ma sapete come se siamo... Ragazzi, in due è veramente una roba pazzesca. Ah, 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 ah. Ok. Ok, ok. Ma dove sono i nostri... Madonna la... Quando aggiusti con le mouse. Ma noi siamo live, raga. Cioè, il nostro team, il red team. Ok, allora, andiamo. Scusa. Eh, cos'è? Ok, dai, andiamo. Dove sono i verdi? Dobbiamo cercare di attaccare. Umidio, ma cos'è? Ah, il nostro. Madonna. Scusate, mi sono spaventata troppo. Ok, dove sono i verdi? Ah, i verdi sono dall'altra parte. E fammi... Eh, ma devi... Ah, scusa. Lol. No, eh, eh. Eh, no, no, si può. Dai, su, 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 su. Ok, perfetto. Ok, vedi... Oh, Henry Gamer, la vendetta. Oh, mio Dio, sta arrivando. No, Lari, non muoverti così bruscamente, ti prego. Ok, ok. Retromarcia. Dove sono i miei compari? Ok. No, no, no. Ok, siamo da soli. Help, help, oh mio Dio, eccolo. Grande, helpaci. È invisibile, è invisibile. Attaccalo, attaccalo. No! Ti odio, perché non hai saltato? Ho saltato. Ma in avanti, Cribbio. E mi dispi. No, eh, sì, era. Però perché si è nascosto dentro sta cosa, capisci? Bene, ragazzi, in pratica la prima partita è andata così. Beh, in effetti, noi quelli eravamo, i rossi? Ok, i nostri due compagni di squadra sono andati a bere qualcosa, probabilmente, perché non so dove siano. No, ma ne è rimasto uno. Appunto, ne è rimasto uno, ma se ne sono andati chissà dove. Magari, boh, non lo so, non siamo stati attenti, ragazzi. Infatti. Oh, che figata la casetta. Vero. Bene, ragazzi, speriamo che questa challenge vi sia piaciuta. È stata abbastanza difficile, quindi, purtroppo, vabbè, qualche kill siamo riusciti a fare. Vabbè, che io dovevo solo muovermi, la mente eri te, quindi per te è stato più faticoso. Sì, se io beccavo le robe, scusate. Comunque, ragazzi, se avete da proporci altre challenge da fare nelle bedware, scrivetecelo qui sotto nei commenti. Droppate un like se la puntata vi è piaciuta. Iscrivetevi sull'anuncio patto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!